Il Comune di None, grazie a questo importante contratto quadro tra Città Metropolitana e Bosch Service, che ci vede coinvolti con altri quattro comuni, che sono Bruino, Orbassano, Pio, Sasco e Volvera, ha potuto ottenere un importante risparmio in primis per i progetti e successivamente per ottenere migliori condizioni contrattuali. Nel secondo caso, nel nostro caso, il Comune di None è riuscito nell'intento di ammodernare la centrale termica della scuola dell'infanzia rubiano. Con un investimento di 43 mila euro offerto da Bosch e sottoscrivendo il contratto con la Energy Service Companies Esco, beneficerà di un risparmio economico del 29,5% per anno rispetto a quanto si paga attualmente.